Volevo solo dirvi che il video è stato fatto da me, postato da me per una presa in giro nei confronti di un compagno di squadra da parte di queste ragazze e non per prendere in giro napoletani, tifosi del Napoli o la città o altri. Quindi tranquilli, era un video esclusivamente per prendere in giro il sottoscritto, il tifoso numero uno del Napoli.